salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi ce ne andiamo a fare un bel giretto al lago di bracciano visto che questa bella giornata che fai te ne privi te ne privi anche perché sono cinque giorni che sono fuori per lavoro infatti questo sabato non è uscito il video ma è uscito lunedì pomeriggio che è proprio il giorno che sono ritornato a casa perché purtroppo dove ero non il telefono non prendeva non c'era linea un cazzo quindi non sono riuscito a caricare il video purtroppo ragazzi l'ho fatto ma non sono riuscito a caricarlo ho dovuto caricarlo mentre quando sono tornato a casa e vabbè e vabbè e che altro ci sono grandi novità ragazzi perché sono appena andato a sentire per fare la mappa a mia quindi settimana prossima mi ci metterò d'accordo qua in officina da cf moto racing a anguillara con massimo già ho parlato con lui e quindi settimana prossimo ci mettiamo d'accordo gliela porto giù e poi si mappa visto che siamo già qua che facciamo non ce lo facciamo un giretto a lago di bracciano tra l'altro oggi dava anche nuvoloso invece sembra che il tempo stia reggendo alla grande proprio fatemi passare grazie 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 vada vada signore vada non cincischi ragazzi io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare un like un commento attivare la campanellina se volete trovate anche il link di instagram in descrizione per seguirmi e per chi ha scaricato tonit l'app per i motociclisti mi trovate anche la sempre come mario 90 eccolo qua il lago di bracciano eccolo qua il lago di bracciano eccolo qua il lago di bracciano è una segna di valle guarda questo mezzo alla strada ehi una bella brillietta per essere martedì però gente c'è al lago eh un po' di gente c'è adesso andiamo là al pontile ci fermiamo un attimo facciamo un caffettino due foto e poi direzione home eccoci di nuovo qua ragazzi abbiamo fatto le foto abbiamo preso il caffettino ora andiamo a dare a fare un saluto a silvano grande si silvano e poi niente poi ragazzi ce ne andiamo a casa quanto mancano? 4 chilometri quindi siamo quasi arrivati e niente ragazzi ci vediamo sulla strada del ritorno che c'è qualche curvetta carina la strada del ritorno ci facciamo queste curvettine ragazzi ragazzi anche per questo video è tutto io spero che vi sia piaciuto come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare un like attivare la campanellina e commentare qua sotto e ci vediamo al prossimo video ciao